Il terzo evento dell'iniziativa denominata Quale città? Infrastrutture intelligenti che si svolgerà lunedì 29 novembre a Pescara. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Si parla di infrastrutture intelligenti nell'ambito di questo progetto Quale città? Presutti, le infrastrutture sono fondamentali per il nostro territorio? Le infrastrutture lo sono sempre state. Diciamo che ragionando delle città e del futuro delle città, le infrastrutture servono anche a una nuova riflessione su questo tema dello spazio, che è un tema che è posto in discussione della contemporaneità, perché da un lato la tecnologia ha quasi eliminato la categoria spaziale proprio per la possibilità che si ha di collegare tutto, d'altra parte la pandemia ci ha dimostrato che dobbiamo tornare a riconsiderare lo spazio e i tempi di vita e molti aspetti che proprio chiamano in casa questa categoria che sembrava sparita. Allora questo è un momento davvero prezioso, sia dal punto di vista di ciò che ci insegna questo momento, sia dal punto di vista delle risorse, ad esempio quelle del PNRR che ci sono, per interrogarci su come utilizzare l'innovazione tecnologica per creare infrastrutture che ci riconcilino con questa dimensione e rendono migliore la vita per i cittadini. Avremo a disposizione, abbiamo a disposizione una quantità ingente di risorse, bisogna assolutamente investire nel migliore dei modi possibili, investirle in una prospettiva di sviluppo, uno sviluppo che sia economico, che sia basato sull'inclusione sociale, che sia rispettoso dell'ambiente. Da qui l'idea di dibattere, e lo faremo lunedì con ospiti estremamente autorevoli e di grande esperienza, per verificare quali siano le migliori scelte possibili di applicazione delle tecnologie alle infrastrutture della città. La città è motore di sviluppo, per esercitare bene questo ruolo è necessario che sia competitiva e per essere competitiva deve essere intelligente. L'intelligenza di una città si misura non solo dal grado delle tecnologie utilizzate, ma dalla condivisione con i cittadini del progetto di sviluppo, dalla capacità di utilizzare le nuove tecnologie e di orientarle verso quelle che saranno le leve strategiche della competizione che ci aspetta già domani. La cronaca, salto con fucile e pistola ad un portavalori a Pescara, è accaduto stamani davanti alle poste di Via Tirino. In azione almeno due persone che sono riuscite a portare via un bottino, secondo le prime stime, di circa 80 mila euro. Durante la rapina i malviventi avrebbero anche sparato un colpo di pistola, il fatto è avvenuto attorno alle 7.30. I due, dopo aver rubato un furgone nei pressi dell'ufficio postale, hanno atteso l'arrivo del portavalori, hanno minacciato i vigilanti, si sono fatti consegnare le armi e sono fuggiti con il bottino. Il furgone rubato è stato ritrovato poco dopo, non distante dal luogo dell'accaduto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Pescara. Si tratta dello stesso ufficio postale in cui alcune settimane fa era stato commesso un furto notturno da oltre 100 mila euro. Per quell'episodio specifico il direttore della filiale è stato iscritto nel registro degli indagati. E poi ancora sanzionati perché sorpresi a lavorare senza green pass nel corso di una ispezione dei carabinieri del NAS di Pescara che stanno eseguendo controlli nei ristoranti abruzzesi. Tre, in particolare le attività ispezionate nel Pescarese e nel Chietino. In due delle strutture i dipendenti in questione sono stati sorpresi al lavoro sebbene sprovvisti di certificazione verde. Nel corso delle attività ispettive sono state contestate anche violazioni per la mancata attuazione del piano di autocontrollo e per l'omessa indicazione della lista degli ingredienti degli alimenti somministrati alla clientela. Le attività rientrano nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Generale in tutta Italia. Ispezionati 12.000 attività ed esercizi con 778 violazioni all'obbligo del green pass. Domani è la giornata della colletta alimentare che anche nella nostra regione permetterà di raccogliere il cibo per i più bisognosi. Da 25 anni si ripete l'importante iniziativa promossa dal Banco Alimentare. Vediamo. Torna la giornata della colletta alimentare. Domani 27 novembre in diversi punti vendita e supermercati i volontari in pettorina gialla del Banco Alimentare aiuteranno e daranno le istruzioni a tutte le persone che vorranno acquistare e donare omogenizzate la frutta, tonno, carne in scatola, olio, legumi e pelati. Sul sito colletta.bancoalimentare.it è possibile conoscere quali sono gli esercizi che hanno aderito alla storica iniziativa che da 25 anni si propone di raccogliere cibo da destinare ai più bisognosi. Domani la modalità tradizionale, ma da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre sarà possibile donare la spesa anche online su amazon.it.bancoalimentare oppure con la cosiddetta charity card. In Abruzzo si stima che saranno oltre 32 mila i bisognosi che riceveranno le donazioni. Sabato 27 novembre ci sarà la 25esima edizione della giornata nazionale della colletta alimentare. Una giornata di carità e di solidarietà che amo definire nazional popolare perché ormai è conosciuta e alla quale tutti possiamo partecipare. Partecipare attraverso un piccolo gesto concreto ma di una importanza e di una rilevanza enorme. concreto perché si tratta di fare una spesa comprando dei prodotti che vi verranno indicati attraverso un volantino che vi verrà consegnato dai volontari riconoscibili dalle pettorine gialle. Ma soprattutto di una importanza enorme perché questa spesa ci permetterà di aiutare chi aiuta. Cioè di aiutare le numerose associazioni di carità presenti sul nostro territorio che quotidianamente abbracciano il bisogno e aiutano le persone in difficoltà. Ma la colletta non è soltanto una giornata di carità e di solidarietà. Ma anche un'occasione grande per educarci ad un'esigenza che in questi due anni abbiamo in qualche modo scoperto essere ancora più importante e urgente. Perché mai come in questi due anni abbiamo capito che dall'emergenza sanitaria occorre favorire nella nostra società una dimensione di condivisione. Una condivisione alla quale ci si educa attraverso gesti come quello della colletta. Perché come ci ricordava il Papa, nessuno si può salvare da soli. Vi aspettiamo numerosi e generosi. Una donna di circa 40 anni senza documenti è stata trovata senza vita poco prima delle ore 7 a Pescara in via Paolini vicino all'ospedale civile a dare l'allarme a alcuni passanti che hanno chiamato immediatamente il 118. Ma quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso. Indagano gli agenti della squadra volante. E poi 5 persone sono state denunciate dai carabinieri forestali di Lanciano a vario titolo per getto pericoloso di cose e danneggiamento nonché per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I militari sono intervenuti sulla base di una segnalazione della Sasi relativa alla presenza di scarichi anomali in ingresso nel depuratore comunale Renazze di San Vito Chietino. L'intervento tempestivo e gli accertamenti hanno permesso di verificare come fosse effettivamente in corso uno smaltimento illecito di gasolio in una fognatura pubblica proveniente da un vecchio serbatoio posto a servizio di un immobile in ristrutturazione. E come lo sversamento del gasolio nel tempo avesse provocato danni all'impianto di depurazione comunale compromettendone funzionalità ed efficienza. Torna a Pescara nel weekend la tradizionale fiera del radio amatore giunta alla sua 55esima edizione. L'appuntamento si svolgerà al palafiere di via Tirino. Vediamo. Torna alla fiera mercato nazionale del radio amatore di Pescara con la sua 55esima edizione. Il tradizionale appuntamento riservato operatori del settore agli appassionati e che da sempre attrae l'interesse dei detti lavori di diverse regioni si terrà sabato e domenica prossimi 27 e 28 novembre presso il Pescara Fiere di via Tirino. La manifestazione è stata presentata questa mattina presso la sala giunta del comune di Pescara. Quest'anno abbiamo rimesso in programma la nostra manifestazione senza trascurare nessun aspetto, quindi sono state invitate le scolaresche, abbiamo delle rappresentanze che vengono da diverse parti d'Italia, ovviamente fatti salve le misure di sicurezza sanitarie. Al di là dell'aspetto commerciale c'è un aspetto che per noi è molto più importante e cioè quello di creare nuovi adepti, di portare nuovi prodotti, di condividere nuove soluzioni di comunicazione, tant'è vero che abbiamo delle apparecchiature che verranno presentate quest'anno di tecnologia, di nuova tecnologia digitale e che permettono di superare le difficoltà di comunicazione che spesso per motivi fisici insomma vengono prospettate dall'attività radioamatoriale, non solo, anche delle attività di comunicazione che svolgono i vari enti. Il sindaco di Pescara Carlo Masci questa mattina nel corso della presentazione dell'evento ha sottolineato l'importante ruolo avuto proprio dal palafiere di Via Tirino nel corso dell'emergenza sanitaria. Poi c'è il palafiere che abbiamo utilizzato per le vaccinazioni, ha avuto un successo incredibile, è stato conosciuto da tutti e oggi viene utilizzato a Pescara per organizzare fiere che portano gente da tutte le parti d'Italia, quindi un messaggio positivo anche di ripartenza delle attività perché per troppo tempo siamo stati senza iniziative, ci siamo preoccupati, continuiamo a preoccuparci dei tamponi delle vaccinazioni ma nello stesso tempo la società, la vita ripartono per prospettive più nuove, più tranquille sapendo che con le vaccinazioni si ottengono risultati legati al fatto che questa malattia aggressiva fa meno danni rispetto a quelli che ha fatto negli anni passati. Le imprese aderenti ad Ance e Teramo assumeranno i ragazzi che stanno frequentando il corso di formazione come operatori edili finanziato dalla regione Abruzzo. Tania Bonici Castelli. Buone notizie per l'occupazione giovanile. Le imprese Ance e di Teramo assumeranno gli allievi del corso finanziato dalla regione Abruzzo per operatori edile in corso di svolgimento presso Eventi Italia. Sono in procinto infatti di essere sottoscritti i contratti di apprendistato della durata di due anni in favore dei 13 partecipanti. Le assunzioni che saranno effettuate presso le principali imprese edili del territorio provinciale aderenti a Ance consentiranno agli allievi di assolvere all'obbligo scolastico, conseguire la qualifica professionale e allo stesso tempo di inserirsi nel mercato del lavoro. Abbiamo tanto bisogno di mano d'opera e abbiamo avuto la fortuna insieme a Eventi Italia di vincere due bandi regionali per la formazione di operatori edili. Il primo bando è già alla seconda annualità, ci sono circa 15 ragazzi che adesso passeranno, la prima annualità era tutta teoria in aula, adesso invece da febbraio-marzo faranno anche la parte in cantiere dove saranno assunte dalle imprese che li ospiteranno e prenderanno uno stipendio cofinanziato dall'impresa e dalla regione. Poi c'è il terzo anno che è tutto in pratica, è tutto presso le aziende e anche lì loro percepiranno uno stipendio e alla fine otterranno la qualifica di operatori edile e magari potranno ottenere sicuramente dei contratti a tempo indeterminato. Considerando la forte necessità di contrastare l'abbandono scolastico in Italia e le difficoltà di inserimento lavorativo dei giovani della nostra provincia, si tratta di un risultato che ci rende fortemente orgogliosi, ha dichiarato Floriana Dugo, amministratrice di Eventi Italia. Lancio questo grido d'allarme di quei giovani, alle famiglie avvicinate al mondo edile perché tutto sommato è un mondo ben retribuito, perché noi abbiamo le tariffe che sono più alte del meccanico e degli altri settori. I nostri contratti di lavoro sono quasi al 95% a tempo indeterminato. Penso che tutti ci possano entrare, a tutti potrebbe piacere. Adesso è finita l'idea del muratore, del manovale che sta lì a mettere la calce. Adesso è quasi tutto meccanizzato, perciò io invito i giovani ad entrare in questo mondo. L'amministrazione comunale di Pescara, in vista delle festività natalizie, erogherà i boni spesa destinati alle famiglie in difficoltà, fortemente provate dalla pandemia. A disposizione 400 mila euro il servizio. Diciamo che questi sono sempre quei fondi che sia in questo contesto stato, ma anche con tante altre iniziative che la nostra amministrazione ha messo in essere nel corso di quest'anno, per dare un aiuto alle famiglie maggiormente colpite della problematica Covid, quindi soprattutto ricordiamo anche quell'arco temporaneo dei lockdown con anche famiglie, ma anche autonomi, perché ricordiamo che queste iniziative sono anche per gli autonomi che dovessero chiudere perché c'era la normativa del lockdown. Oggi ancora un ulteriore aiuto che diamo, sono risorse importanti, perché 400 mila euro di risorse da poter spendere per beni alimentari rappresentano non sicuramente una soluzione della problematica, sicuramente non rappresentano una situazione per cui va da sé che risolvano totalmente i problemi, però è sicuramente un aiuto concreto. Si parla di questi buoni che verranno erogati per il periodo natalizio, c'è anche questa collaborazione, questa sinergia con la Caritas? Sicuramente sì, per non lasciare indietro nessuno e per attivare soprattutto per quelle persone che non riescono ad usare il tablet o il telefono, comunque non hanno una stampante o non sanno scannerizzare qualcosa, ci siamo attivati subito con lo sportello che già era in essere in altra occasione, questa volta con la novità che anche i quartieri, alcuni quartieri saranno dotati di questo servizio per il modo che il cittadino non debba scomodarsi a venire qui in comune, quindi il quartiere avrà a disposizione questi operatori della Caritas e sarà lì a dare spiegazioni se qualcuno non capisce qualcosa nella domanda o comunque a riempire questi modelli. Ci sarà tempo fino al 30 novembre per chi è in possesso di una laurea triennale per potersi iscrivere al Master di primo livello per dirigenti sportivi dal titolo Comunicazione e politica per lo sport all'Università di Teramo. Ne abbiamo parlato con il coordinatore del Master, il professor Luigi Mastrangelo. Il Master in comunicazione e politica per lo sport è un'iniziativa che caratterizza l'Università di Teramo fin dalla sua formazione, l'Università di Teramo si è sempre occupata di formazione del dirigente sportivo sin dai corsi istituiti alla fine degli anni 90 nella sede di Atri. Negli ultimi anni abbiamo ripreso questo percorso formativo dedicato appunto al dirigente sportivo, il dirigente sportivo deve avere una formazione multidisciplinare, deve conoscere elementi di diritto, di economia, di comunicazione, elementi storico-sociali e deve avere una forte formazione etica perché il ruolo del dirigente sportivo, come a tutti noto, è un ruolo che ha una forte responsabilità sociale. Il bando del Master è aperto fino al 30 novembre, ci si può iscrivere con una laurea triennale, è un Master di primo livello ma si può accedere anche come uditore se non si possiede la laurea ed è un percorso che ha visto il nostro Ateneo appunto in prima linea proprio perché lo sport ha una valenza centrale nella società contemporanea e quindi il bisogno di dirigenti sportivi è un bisogno forte. Essere dirigente sportivo non significa semplicemente organizzare una partita ma avere una visione umanistica di lungo periodo e di grandi valori, quindi il nostro impegno come Ateneo è quello appunto di metterci a disposizione di tutti coloro che vogliono dedicare la loro vita, la loro professionalità a questo mondo che tra l'altro è un mondo che attiene molto l'educazione dei giovani, quindi è un mondo che veramente richiede grandi responsabilità ed ha una sua funzione specifica per il futuro dei giovani ma del corpo sociale nel suo insieme. Il cantante originario di Penne, ormai star della canzone italiana Setac si esibirà il primo dicembre al Teatro Massimo di Pescara, vediamo. Protagonista di un concerto evento nella sua terra d'Abruzzo, Setac salirà sul palco del Teatro Massimo di Pescara il primo dicembre alle 21.30. Le radici vestine, l'artista infatti originario di Penne, hanno accompagnato i suoi sordi fino a renderlo oggi uno dei cantautori più interessanti del panorama nazionale. Reduce dalla partecipazione alla rassegna della canzone d'autore Premio Tenco 2021, il primo dicembre ospite speciale Mimmo Locasciulli, Setac sarà accompagnato dalla sua band capace di esprimere una meravigliosa sintesi musicale tra diversi suoni e ritmi di tutto il mondo. Setac proporrà i brani dei suoi due album Alestale e Bluesanza, ovvero Blues e Transumanza, Sentimento e Appartenenza. Devo dire che questo per me è un evento speciale perché a parte che sto ricevendo un'accoglienza che mi commuove veramente e poi il Teatro Massimo per me era proprio un obiettivo della vita, lo sognavo da sempre, l'ho sempre vissuto da spettatore ed è un posto magico, stiamo preparando uno spettacolo ad hoc e non vedo l'ora che verrà il primo. Non posso immaginare un futuro senza le radici, è molto semplice e quindi tutto quello che farò sarà sempre condizionato da questo. Le radici sono la cosa più importante che abbiamo e purtroppo non è facile apprezzare questa cosa e capirla. Io per capirla sono dovuto scappare, ho dovuto anche odiarle, però spesso come succede nella maggior parte dei casi quando ti allontani da una cosa la capisci meglio. E ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con un collegamento dall'esterno dello stadio Bonolis di Teramo perché per il Teramo è l'antivigilia della gara molto delicata di Carrara ma è anche il day after di questa operazione che ha avuto una vasta eco e che ha portato al fermo dei fratelli Davide e Mario Ciaccia, i neoproprietari del Teramo e al sequestro preventivo delle quote che fanno riferimento a loro, ovvero quote per il 60% e dunque la maggioranza dell'intero pacchetto. Andiamo da Jacopo Forcella, tra poco ci sarà la conferenza stampa del tecnico Federico Guidi, inevitabili riferimenti a questa vicenda oltre che le domande in vista di Carrarese Teramo. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio dall'esterno dello stadio Bonolis, tra pochi minuti si siederà in conferenza stampa Federico Guidi come hai giustamente detto te per presentare la gara contro la Carrarese di dopodomani che è un vero e proprio scontro diretto, una gara delicata in chiave salvezza, ma ovviamente la Carrarese è passata in secondo piano dopo i fatti di ieri, dopo il fermo dei due fratelli Mario e Davide Ciaccia che l'8 novembre avevano formalizzato davanti al notario l'acquisizione del 60% della quota più sostanziosa del pacchetto societario del Teramo e adesso ovviamente da qualche ora a questa parte, tu hai detto il day after, prevalgono gli interrogativi su quello che sarà il futuro di questa squadra, ovviamente che ha come prospettiva di corto raggio la trasferta dello stadio dei Marmi di domenica pomeriggio in cui si gioca molto la formazione bianco-rossa, ma è evidente che le ripercussioni sulla squadra e tra poco sentiremo proprio Federico Guidi al riguardo potrebbero essere negative, soprattutto perché si è di fronte ad una partita molto complicata. È chiaro che in questo momento il giorno dopo vige sostanziale attesa e sono tante le domande che vengono rivolte anche a noi operatori dell'informazione su quello che sarà il futuro della Teramo Calcio. Lo ricordiamo, il 60% delle quote sociali è sotto sequestro dopo il fermo ieri della Guardia di Finanza, peraltro provvedimenti che sono stati firmati dal Pubblico Ministero in attesa della convalida del giudice per le indagini preliminari. Davide Ciaccia ieri praticamente una giornata intera all'interno della caserma della Guardia di Finanza prima di essere trasportato nel carcere di Ascoli Piceno. È chiaro che è una situazione difficilmente preventivabile fino a qualche giorno fa, d'altronde è notizia di sabato la presentazione al Parco della Scienza del nuovo organigramma e qualche giorno dopo un vero e proprio terremoto che si abbatte sulla società biancorossa. È evidente che in questo caso la squadra e guidi, in questo caso la parte tecnica, ha il compito più gravoso, ovvero quello di cercare di isolarsi da questo momento complicato e provare a fare punti a Carrara contro la Carrarese, che in questo momento ovviamente è un'esigenza di classifica e anche nel percorso che porterà il Teramo da qui poi vedremo nella seconda parte della stagione a provare a centrare una salvezza complicata, soprattutto perché in questo momento pensare ad eventuali acquisti, ad eventuale mercato di gennaio sembra davvero utopia. Comunque tra pochissimo ci sarà la conferenza stampa di Federico Guidi, si parlerà di Carrarese, ma ovviamente non potranno mancare i riferimenti ai fatti di ieri. Grazie Jacopo, buon lavoro, questa sera chiaramente il resoconto della conferenza stampa di Federico Guidi e anche aggiornamenti sulla vicenda societaria. Noi andiamo avanti con la pagina dello Sport, domenica alle 14.30 il Pescara ospiterà la Lucchese per la gara che vale la permanenza in panchina, l'allenatore biancazzurro Gaetano Oteri è pronto a riproporre il 3-4-3, il Pescara che non batte all'Adriatico i rossoneri toscani dal 97, vediamo. In ascesa le quotazioni di Nicola Rauti per il tridente che Gaetano Oteri manderà in campo domenica alle 14.30 l'Adriatico Cornacchia contro la Lucchese. Il giocatore di proprietà del Torino proprio nell'ultimo match di campionato contro il Pontadera ha realizzato il suo primo gol con la maglia del Pescara, rete di pregevole fattura fatta con la determinazione di chi vuole incidere nonostante le difficoltà. Anche per questo che l'ex palermitano potrebbe soffiare la maglia a un Dursi sempre più indolente dal grande talento, finora però in espresso. Al centro dell'attacco ci sarà Ferrari, mentre a destra Oteri avrà alcuni dubbi, Galano non è al 100%. Clemenza continua a convincere poco, talento cristallino ma poco propenso alla lotta quando si alza il tenore agonistico della partita. Da verificare Chiarella che non ha certo i 90 minuti nelle gambe ma che potrà essere utile dall'inizio o in corso d'opera. Oteri tornerà al suo modulo prediletto il 3-4-3 con Pompetti e Memuscei favoriti per comporre la coppia di centrocampo. Il tecnico potrebbe riaffidarsi alle certezze di inizio stagione con Zappella sulla destra e Cancellotti Braccetto nel trio di difesa completato da Drudi e Ingrosso. Sul fronte lucchese due sono gli interrogativi per il tecnico Guido Pagliuca per il suo 4-3-1-2, la sostituzione di Eclu a centrocampo per la quale sono in ballo il rientrante Frigerio, Picchi e l'ex aquilano Benzaia. E la possibilità di impiegare il giocatore di maggior talento Semprini che ha appena recuperato da un infortunio ed è in ballottaggio con Nannini. Direzione di gara affidata a Bogdan, Nicola e Sfira della sezione di Pordenone. Originario della Romania non ha mai diretto il Pescara mentre ha tre precedenti tutti in trasferta con la lucchese con altrettanti pareggi, tutti per 1-1, due in serie C contro Pro Sesto e Piacenza, uno in serie D col Ghivizzano. Pescara-Lucchese è una partita che manca all'Adriatico dal 2 settembre del 2007 quando i rossoneri di Piero Braglia si imposero 0-3 contro un Pescara partito tardi e allestito in pochi giorni dal DS Nucifora. Fu quello il debutto in panchina per Franco Lerda. Con la lucchese l'ultima vittoria del Pescara. L'Adriatico risale al 12 ottobre 1997 quando l'11 di Maurizio Viscidi si impose in rimonta sui toscani di Decagno, 2-1, con i centri di Palladini, Cammarata e Vannucchi. In generale a Pescara ci sono quattro vittorie del Delfino a fronte di tre pareggi e tre sconfitte. E ora la palla a volo con il programma del weekend. La Secortona ospiterà domenica alle 18 il Motta di Livenza per il campionato di A2. In A3 non giocherà l'Abba Pineto a Torino per un caso di Covid in casa piemontese. Recupero entro dicembre. In A2 femminile l'Altino domenica alle 15 riceverà il Marsala. In B maschile domani alle 17.30 l'Albadriatica sarà impegnata ad Ancona. Il Paglietta alle 18.30 se la vedrà in casa col Casoria. In B1 femminile domani alle 17 a Nocciano la Teatina ospiterà il Pomezia. In B2 sempre domani Granderby al Panaroma tra Ceteas Montesimano e Gada Pescara 3 alle ore 18.00. Mezz'ora dopo la Danunziana scenderà sul parquet del Potenza Picena alle 19.00. Infine sarà la volta del Teramo a Bisceglie. E' tutto per questa prima edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. prossimi appuntamenti con la nostra informazione il TG6 delle ore 19 e delle ore 23.00. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.